Alla fiera di Ropero durante una visita ai padiglioni mille persone restano al buio, interviene la protezione civile, tutto finto e un'esercitazione in vista di Expo. Mille persone restano al buio mentre visitano la fiera di Ropero, scene di panico e la protezione civile che interviene. Ieri sera le esercitazioni in vista di Expo. Casa Gaspa Soledine, l'elettricità sarà assente sino al ripristino del servizio. La luce va via all'improvviso, resta solo quella d'emergenza. La folla al padiglione 20 della fiera Ropero non sa cosa fare, arrivano le prime indicazioni. Si sta simulando un blackout, mille volontari della protezione civile si sono prestati per un'esercitazione in vista di Expo. Per il guasto la metropolitana non funziona e la stazione di Ropero è al buio. Tutti vanno accompagnati al punto di raccolta tra i nord dello Scalo Fiorenza, fornito di un sistema di alimentazione alternativo per prendere bus e treni. Bene signori, manteniamo la calma e il fisso sotto controllo. L'evacuazione della fiera prefigura lo scenario di folla possibile per l'esposizione del 2015. Sono attesi oltre 20 milioni di visitatori. Facciamo questa prova di evacuazione che sarà un po' la prova generale dell'evacuazione del sito Expo. L'area non è ancora pronta ma non appena anche l'area sarà la piastra pronta e avrà il suo piano di emergenza sicuramente testeremo anche quello ma devo dire che oggi è già una simulazione decisamente significativa che ci permette già di fare delle valutazioni concrete. Le operazioni sono state gestite da un comitato interforze coordinate dal COM, il Centro Operativo Misto. La protezione civile si prepara per Expo. Abbiamo già pianificato dei corsi di formazione dei volontari che prevedono in particolare la gestione delle lingue e fondamentalmente formazione mirata sempre alla gestione delle folle e del panico. I volontari hanno simulato proteste, malorieriste ma soprattutto prestato il loro tempo alla collettività.